Buonasera e ben ritrovati a Segno 7. Questa sera vogliamo concludere il ciclo di puntate che abbiamo dedicato a Don Milani in questo suo centenario della nascita. Nella prima puntata avevamo parlato di Don Milani nella sua veste di maestro, nella sua scuola a Barbiana. Nella seconda puntata invece abbiamo parlato di Don Milani e dell'obiezione di coscienza. Ecco, questa sera vogliamo fare un po' un riassunto di quelli che sono stati gli insegnamenti e di qual è la testimonianza e l'eredità che ci lascia Don Milani. Tornate a trovarci Don Andrea Bigalli. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti e a tutti. Ecco, Don Andrea, tu sei membro del comitato che è stato istituito appunto per fare dei lavori inerenti a Don Milani e per ricordarlo. Avete fatto una serie di eventi. Ecco, facciamo un bilancio di come stanno andando e di come sono andati finora ecco queste tante iniziative che avete promosso per ricordare Don Milani. La dimensione estremamente complessa del pensiero di Lorenzo Milani si è tradotta in tutta una serie di ambiti in cui abbiamo provato a portare una riflessione il mondo del lavoro, il mondo della scuola, con molta attenzione al tema dell'abbandono scolastico, la dimensione della difesa della Costituzione, come già dicevamo la cultura della pace. In particolare poi abbiamo vissuto un momento a fine novembre il convegno ecclesiale che quindi si è fermata a riflettere su che cosa Lorenzo Milani può avere espresso nella Chiesa del suo tempo in relazione a quanto pensiamo la Chiesa debba affrontare adesso, quali sono le dinamiche su cui può crescere, può evolvere, può continuare appunto a vivere la testimonianza del Vangelo nel tempo che le ha consegnato. Ecco, il 22 gennaio scorso voi membri del Comitato avete incontrato il Papa e il Papa ha fatto un bellissimo discorso e vogliamo riproporvi un estratto nel prossimo servizio. L'evento centrale della vita di Don Milani è la sua conversione, questo non dimenticarlo. Essa permette di comprendere appieno la sua persona, dapprima nella sua ricerca inquieta e poi dopo la completa adessione a Cristo nella sua piena organizzazione. Suo sì a Dio lo prende, lo trasforma e lo spinge a comunicarlo alle altre. Inizia così il discorso che Papa Francesco ha tenuto lo scorso 22 gennaio nella Sala Clementina del Vaticano ai membri del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Don Lorenzo Milani, Comitato preseduto da Rosi Bindi e che nasce proprio con l'intento di promuovere iniziative che nel suo centenario della nascita possano dare voce e riscoprire la figura talvolta incompresa del priore di Barbiana, tramandandone la memoria e i messaggi, specialmente alle nuove generazioni. La conversione, dice il Papa, è il cuore di tutta l'esperienza umana e spirituale di Don Milani, che lo fa credente, prete innamorato della Chiesa, fedele servitore del Vangelo nei poveri. Il Papa poi prosegue citando esperienze pastorali, testo meno noto di Don Milani, ma molto importante per comprenderne la persona. Noi, dice Don Milani ai preti, abbiamo per unica ragione di vita quella di contentare il Signore e dimostrargli di aver capito che ogni anima è un universo di dignità infinita. Il Papa sottolinea così quanto Don Milani si sia donato agli ultimi. Don Lorenzo ha vissuto fino a un fondo le beatitudini evangeliche della povertà e dell'umiltà, dice il Papa, lasciando i suoi privilegi borghesi, la sua ricchezza, le sue comodità, la sua cultura elitaria per farsi povero fra i poveri. Infine, Papa Francesco ricorda Don Milani nella sua esperienza di maestro di Barbiana e lo ringrazia per la sua testimonianza e l'eredità che ci ha lasciato. Al piccolo Grecia di Barbiana, alla sua gente, Don Lorenzo consegna tutta la propria vita che prima ha consegnato a Cristo il mondo anche non è un generico, mi importa, ma un accorato, mi importa di voi. Una dichiarazione esplicita di amore per una piccola comunità e nello stesso tempo è il messaggio che ha consegnato ai suoi scolari e che diventa un insegnamento universale. Abbiamo sentito le parole del Papa, a un certo punto utilizza questa espressione. Il motto di Don Milani, I care, non è un generico, mi importa, ma è un messaggio che diventa un insegnamento universale. Ecco, Don Andrea, qual è questo messaggio universale che Don Milani ci ha voluto lasciare? Che per vivere l'esistenza bisogna improntare tutti i rapporti con cui appunto viviamo l'esperienza della relazione, dell'affetto, dell'amicizia, del lavoro, dell'amore all'insegna della cultura, della cura, dell'attenzione, della tenerezza, della gentilezza, che bisogna entrare veramente in una dimensione di accoglienza. Se c'è una forza, è la forza dell'amore, della solidarietà, della comprensione. Per questo il motto milaniano diventa qualcosa di più di un'indicazione vaga e indistinta. È veramente cogliere una delle essenze del Vangelo. In fondo lo ascoltiamo sistematicamente in queste domeniche di questo ciclo liturgico, liturgico B, il Vangelo di Marco che ci ricorda di un Gesù che percorre le strade della realtà del suo tempo curando, ascoltando, donando una parola significativa, una parola che salva una persona, una parola che libera, una parola che fa crescere. Ecco, questo è quanto la Chiesa, a somiglianza di Cristo Signore, deve fare in ogni tempo. Lorenzo Milani questa cosa l'ha vissuta con particolare coerenza e con particolare chiarezza. Don Milani a un certo punto scrive una frase molto particolare. Da bestie si può diventare uomini e da uomini santi, ma da bestie a santi in un passo solo non si può diventare. Ecco, queste parole ce le ha commentate donna Alessandra Andrini della comunità di San Leolino nel prossimo servizio. Sentite. L'espressione di Don Milani, da bestie si può diventare uomini, da uomini si può diventare santi, ma da bestie santi di un passo solo non si può diventare. Si trova nella seconda parte di esperienze pastorali e in un certo senso riflette sull'esperienza che Don Lorenzo sta facendo a Barbiana. Nelle esperienze pastorali è un testo scritto a metà a San Donato a Calenzano e per l'altra metà a Sant'Andrea a Barbiana. Qui ha di fronte a sede i montanari, delle persone alle quali veramente manca la parola, quella parola che fa uguali, farebbe uguali e che a questi ragazzi di montagna manca in realtà. Sempre in esperienze pastorali c'è quell'episodio emblematico proprio relativo a questa frase che è il giovane cappellano che va a portare l'estremo unzione a un anziano, a una persona che ha passato tutta la vita con le pecore e Don Lorenzo rimane stupito perché vede che quest'uomo quasi non parla una lingua umana, vaneggia indubbiamente ma sta parlando più con le pecore che con gli esseri umani e lui si domanda appunto come una vita così possa davvero entrare in rapporto col Vangelo. Da questo nasce questa frase. Diventare santi significa vivere una vita cristiana, una vita cristiana consapevole appunto vissuta nella conoscenza della parola di Dio, del mistero della fede, nella capacità, nella dignità dell'essere umano di vivere consapevolmente tutte queste cose. Per arrivare a questo occorre dare agli esseri umani la parola. È da qui che nasce tutto il progetto della scuola, prima la scuola popolare e poi la scuola di Barbiana, e da questa chiara consapevolezza, come se, dice a un certo punto, un sacerdote che parlasse a dei sordomuti e annunciasse il Vangelo, predicasse il Vangelo a dei sordomuti, potrebbe anche ritenersi, come dire, a posto, ad aver svolto il suo compito, senza domandarsi, no? Se queste persone hanno davvero potuto ascoltare. Ma quando uno si accorge che quelle persone non hanno gli strumenti per ascoltare, allora proprio il prete, proprio il ministro di Dio, ha il dovere di fare qualcosa per mettere le bestie, chiamiamo così, nelle condizioni di diventare uomini e così essere in grado anche di ascoltare il Vangelo e allora diventare santi. Don Milani ha scritto Esperienze pastorali, che è un testo meno conosciuto rispetto, ad esempio, a lettera ad una professoressa, ma in cui esprime bene il suo concetto di catechesi. A un certo punto Don Milani qui scrive Noi preti abbiamo per unica ragione di vita quella di contentare il Signore e dimostrargli di aver capito che ogni anima è un universo di dignità infinita. Queste sono parole che ancora oggi risuonano forti, Don Andrea. Come le commenteresti? Le commenterei dicendo che qui Lorenzo Milani coglie il segno del ministero, che poi avrà da lì a pochi anni nel Concilio Vaticano II una prospettiva estremamente significativa, ricordandoci che c'è un ministero sacerdotale che è di tutti e tutte i battezzati e le battezzate, quindi ognuno di noi deve vivere la funzione sacerdotale, mettere in comunicazione la realtà di Dio, la realtà degli esseri umani, addirittura si può aggiungere adesso degli esseri viventi, quindi una capacità di cogliere l'universale di Dio nel particolare di ogni singolo individuo, di ogni singola persona e compiere la propria esistenza proprio nella realtà dell'amore del prossimo, che vuol dire nell'arco di una storia, di un'esistenza, le persone che hanno tosciuto concretamente le nostre vite. Lorenzo Milani finisce in un contesto molto ristretto, numericamente, culturalmente, socialmente, e lì scopre la ricchezza di queste persone, questi bambini e queste bambine, le loro famiglie, persone che dovevano essere riscattate da una marginalità assoluta. Ecco, si può dire che Lorenzo Milani prepara quella che è la grande svolta del concilio, si nutre degli umori significativi che hanno portato al concilio Vaticano II, ma le anticipa in tutto e per tutti. Per esempio c'è un punto di Presbiteroio Mordinis che insiste molto sulla figura del presbitero, del prete come educatore, capace quindi a somiglianza a Cristo Signore di tradurre come il Vangelo ammaestra gli esseri umani, non siamo maestri noi, è maestro il Signore attraverso il Vangelo. Ecco, ma questo diventa poi concretamente il compito di insegnare continuamente, tradurre, che vuol dire trasportare, mettere in comunicazione, aprire appunto degli spazi di relazione significativa che però dagli esseri umani appunto dipartono verso la realtà di Dio attraverso lo Spirito. Ecco, adesso voglio lanciare il prossimo servizio che è un'intervista che abbiamo fatto a Federico Rozzi, che è professore associato in storia del cristianesimo e delle chiesi. Ecco, nel giugno del 2017 il Papa e il Presidente sono andati a Barbiana e questo è stato un gesto molto simbolico e ce n'ha parlato appunto Federico Rozzi. Sentite che cosa ci ha detto. Il 2023 è stato l'anno del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, aperto come ricorderete con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Barbiana nel maggio scorso. È stato un segnale importante, dopo quello fondamentale di Papa Francesco nel 2017, con cui riaffermava con forza, con un gesto eloquente, che Milani è stato un figlio della sua chiesa, riconoscendogli da morto quello che lui avrebbe voluto da vivo, ovvero un atto che riconoscesse agli occhi dei suoi due popoli quello che diceva e faceva, in particolare la sua idea di scuola come ottavo sacramento, non era una cosa che lo rendeva una voce fuori dal cuore, una voce eretica, ma era una delle possibili vie in cui la chiesa parlava in quel momento. Dicevo che il gesto però di Sergio Mattarella nell'anno del centenario è altresì importante, perché appunto è un gesto che è stato fatto a nome della Repubblica, che ha rimarginato anche lì una ferita, non con la chiesa, ma in quel senso appunto con il paese. Ricordiamo che Milani viene portato a processo per apologia di reato e condannato, nel 1900, un processo che si era aperto nel 65, proprio perché Milani aveva preso le difese degli obiettori di coscienza. Allora in questo centenario tanto si è parlato, tanto si è scritto di Don Lorenzo Milani, ma rimane ancora fondamentale ragionare su questa figura di prete anche nel 2024, perché le sue battaglie, la sua scrittura radicale, la sua capacità di analisi e la sua capacità di individuare i nodi problematici nella chiesa, ma anche nella società, nel mondo della cultura, nel mondo della politica, le ferite aperte della società di allora, i cortocircuiti appunto della chiesa e della società, allora come oggi quelle battaglie e quella sua capacità ci dice tanto anche oggi. Perché? Perché molte delle questioni di allora, certo sotto altre forme, sono ancora per certi versi problemi anche oggi. pensiamo al fenomeno della dispersione scolastica, tanto combattuta da Milani e incastrata in quello slogan che poi è stato non capito, del non bocciare. Ecco, la dispersione scolastica colpisce drammaticamente il mondo della scuola ed è un problema della società di oggi, non solo nel sud ma anche al nord. Ecco, allora che l'idea di mettere la formazione al centro della vita, l'idea della formazione della scuola, intesa come forza emancipatrice, per modellare i bravi cristiani, sì, ma anche bravi cittadini che sappiano votare, che sappiano interessarsi alle cose che succedono al di fuori della nostra comfort zone, che sappiano prendere posizione, che sappiano difendere gli altri quando c'è da difendere. Ecco, questo allora ci dice ancora, il messaggio ci rende ancora Milani, il messaggio di Milani è ancora molto attuale oggi. Come comitato del centenario, istituito dal Ministero e presieduto da Rosi Bindi, ecco, abbiamo provato a organizzare una serie di convegni a partire dalla figura di Don Lorenzo Milani, ma che in qualche modo attualizzassero la figura di Don Lorenzo Milani al tempo di oggi. Quindi l'idea di non chiudere Milani in un cassetto non è una figura semplicemente da studiare, ma è una figura i cui testi letti oggi nelle scuole o letti oggi nelle parrocchie possono ancora molto comunicare al cittadino e alla cittadina di oggi. Allora impariamo da Milani a saper individuare i cortocircuiti della nostra società, a mettere al centro gli ultimi, a mettere al centro i più poveri e a saper riconoscere che alcuni hanno avuto un privilegio e quindi quel privilegio devono, come lui stesso ha fatto nella sua vita, metterlo a disposizione degli altri e quindi dedicare la propria vita agli altri, a quelli lasciati ai margini, non avere paura di sporcarsi le mani e difendere gli altri. E quindi rileggiamo i testi di Milani oggi perché sono ancora testi molto potenti, molto eloquenti al cittadino e al cristiano di oggi. Don Andrea, oggi abbiamo molti strumenti a disposizione per fare catechesi e tante modalità. In che cosa, secondo te, lo stile di Don Milani è ancora importante oggi e di insegnamento alla Chiesa? Più paradosso, di fronte a un'epoca storica in cui le voci possono moltiplicarsi all'inverosimile arrivare dappertutto. Quello che però rimane fondamentale è questo rapporto fra docente e discente, tra presbitero e la sua comunità, fra chi è chiamato appunto a esprimersi, chi deve ascoltare però tutto questo all'insegna della reciprocità. Ecco direi che uno dei grandi insegnamenti della scuola di Barbiana e dell'esperienza di Lorenzo Milano è questo senso appunto dell'apprendere reciproco, anzi del consegnarsi vicendevolmente questa dignità dell'insegnare. Alla scuola di Barbiana i più grandi insegnavano ai più piccoli, ma Lorenzo Milani termina la sua esistenza dicendo loro pensano che io gli ho insegnato qualcosa, ma loro mi hanno insegnato a vivere. Ecco, credo sia uno degli elementi più belli dell'ascito di Lorenzo Milani. Consegnarsi agli altri significa anche consegnare se stessi alla capacità di apprendere dall'esistenza degli altri. E fra l'altro lui che era nato appunto in una famiglia borghese, che sicuramente era destinato a vivere un'ascesa sociale importante e significativa, si riazzera completamente con la sua vocazione al sacerdozio, finisce per circostanze varie in un angolo sperduto di mondo, ma proprio in quell'angolo così lontano dai centri possibili della società del suo tempo, Lorenzo Milani elabora appunto questa passione per l'umano, questo modello antropologico, questo modello di relazione significativa che fa crescere le persone, le fa evolvere e le trasforma in direzione appunto ad un'umanità rinnovata, che come abbiamo detto in altre circostanze non è semplicemente un'umanità capace di tutelare se stessa, ma vivere concretamente e proporre una cultura fondamentale, quella della pace. E il Papa in quell'occasione si è recato proprio in preghiera sulla tomba di Don Milani, perché è proprio a Barbiana che Don Milani è voluto rimanere per sempre, in quei luoghi a cui lui era molto legato. E allora adesso nell'ultimo servizio vogliamo rivedere, risentire le parole che il Papa ha espresso proprio in quell'incontro lì a Barbiana, in quel momento che vuole essere Don Andrea una sorta di modo per ricucire un po' i rapporti della Chiesa con il suo Don Milani. Sentiamo allora di nuovo insieme le parole del Papa. Cari fratelli e sorelle, sono venuto a Barbiana per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve, perché sia difesa e promossa la loro dignità di persone con la stessa donazione di sé che Gesù ci ha mostrato fino alla croce. Mi rilegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo allievi di Don Lorenzo Milani, alcuni nella scuola popolare di San Donato a Calenzano, altri qui nella scuola di Barbiana. Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato con piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena fedeltà a ciascuno di voi che il Signore gli aveva affidato. E siete testimoni della sua passione educativa, del suo intento di risvegliare nelle persone l'umano per aprirli al Divino. Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori quanti si pongono al servizio della crescita delle nuove generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situazione di disagio. Da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall'amore e dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifugire da ogni egoismo per servire il bene comune. Troviamo scritto in lettera a una professoressa. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia. Infine, ma no da ultimo, mi rivolgo a voi, sacerdoti, che ho voluto accanto a me qui a Barbiana. Voglio ricordare che la dimensione sacerdotale di Don Lorenzo Minani è alla radice di tutto quanto sono andato rievocando finora di lui. Dimensione sacerdotale è la radice di tutto quello che ha fatto. Tutto nasce dal suo essere prete, ma a sua volta il suo essere prete ha una radice ancora più profonda, la sua fede, una fede totalizzante che diventa un donarsi completamente al Signore e che nel ministero sacerdotale trova la forma piena e compiuta per il giovane convertito. Prima di concludere, non posso tacere che il gesto che oggi ha compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da Don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compresso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. Ecco abbiamo visto l'immagine del Papa a Barbiana, ma torniamo ancora una volta al Papa che ha parlato ai membri del Comitato per il Centenario appunto della sua nascita e durante il discorso il Papa definisce Don Milani un prete inquieto ed inquietante, un'espressione molto particolare, tanto che noi abbiamo scelto questa espressione anche nel nostro titolo di questa sera. Don Andrea, secondo te perché il Papa ha utilizzato questa espressione per definire Don Milani? Ma guarda, essendo stato presente effettivamente quel passaggio ha colpito veramente tutti, tanto è vero che poi l'abbiamo anche successivamente ripreso nei giorni successivi, di Rosi Bindi, che è presidente della Commissione per il Centenario, ha più volte sottolineato questo passaggio, che fra l'altro racconta quello che è il rapporto di ogni cristiano, di ogni cristiana con il Vangelo in quanto tale, perché il Vangelo deve essere una realtà che ti inquieta, quindi ti rende inquieto, ti rende inquieto perché ti mette di fronte alle cose del mondo e non te le fa accettare, non ti fa accettare l'ingiustizia, non ti fa accettare la sofferenza umana, non ti fa accettare i progetti di genocidio, non ti fa accettare questa impossibilità che sembra totale di condividere le risorse della Terra. Insomma, noi siamo di fronte a un mondo che potrebbe essere molto diverso e che attraverso i sistemi educativi, i sistemi di comunicazione di massa, le logiche del potere, tutto cerca di convincerci che sia il miglior mondo possibile. E noi sappiamo bene che non è vero, perché il Vangelo ci presenta un'immagine straordinaria, che è quello del Regno di Dio, del Regno dei Cieli, che vuol dire un mondo veramente a misura dell'umano, anzi di tutti gli esseri viventi che sono chiamati a vivere fra di loro in concordia, positivamente, creandosi reciprocamente le condizioni della felicità. E questo noi sappiamo che è possibile, perché appartiene alle fasi migliori delle nostre esistenze, appartiene appunto al tempo della pace, al tempo in cui noi siamo capaci di esprimere la parte migliore di noi stessi e lo siamo in una forma anche che rimanda all'essenza vera della cultura. La cultura è questa potenzialità di educarsi reciprocamente al bello e servire reciprocamente, come dice l'Apostolo Paolo, questa possibilità della gioia delle nostre esistenze. Tutto questo però, se ci rende inquieti, ci fa diventare anche in qualche modo inquietanti, perché una vita felice, nonostante appunto le difficoltà, beati i poveri resta una delle pagine più scandalose del Vangelo in quanto tale. Una capacità appunto di essere sereni, creativi, in pienezza dell'esistenza stessa di fronte a un mondo come questo è per paradosso inquietante, nel senso suscita delle domande e noi dobbiamo essere capaci queste domande di suscitarle sempre. Guardate, uno dei grandi torti che si può fare a Don Milani è uscito anche in alcune polemie di intellettuali contemporanee, Mastracola, Volponi, nel continuare a insistere sulla scuola di Barbiana come un luogo tutto sommato tetro, in cui si vigeva un autoritarismo incentrato su questa figura carismatica, ma fino all'eccesso del priore. È un mondo quindi in cui i bambini e le bambine erano in qualche modo costrette a essere qualcosa di diverso da quello che un bambino può essere. Ma chi parla così evidentemente non ha ascoltato le testimonianze, non ha visto i filmati, non ha attinto alle fonti dirette. Perché guardate, non c'è un allievo di Barbiana che abbia ridetto cose del genere. La scuola di Barbiana è una scuola felice, è una scuola in cui si poteva essere pienamente bambini nell'essenza stessa dell'essere bambini, cioè una crescita consapevole, una crescita gioiosa, la gioia dell'apprendere, la gioia del fare comunità. Perché ricordiamoci che Barbiana è stata una comunità, una comunità educante, perché insieme al priore c'era l'Eda Pelagatti, poi successivamente gli ultimi anni è arrivata dell'Ele Corrada. Corradi c'era tutta una serie di persone che erano chiamate a insegnare e convenivano a Barbiana. E c'era un rapporto fra gli allievi stessi della scuola di comunità, di reciprocità, d'aiuto vicendevole. Tutto un tessuto che noi possiamo vedere appunto come la realtà di una scuola ideale, una scuola in cui si impara a vivere, ma soprattutto si impara a vivere la dimensione della felicità possibile. Guardate, è un aspetto che forse non abbiamo illustrato a sufficienza. Pensate che questi bambinetti facevano ore di cammino nel bosco, a orari fra l'altro anche mattutini o serali, in pieno buio, nelle intemperie, tutto che lo volete, per andare a questa scuola. Se non fosse stata una scuola capace di dare molto, non avrebbero fatto molto per arrivarci. Ecco, su questo piano qui bisogna allora centrare su un elemento. Non è l'unica fonte possibile della gioia degli esseri umani, perché Dio non si limita da questo punto di vista. Insomma, non è che solo la sua parola garantisce la felicità, o meglio, la sua parola risuona in tante dimensioni diverse. Ma ricordiamoci che il Vangelo è veramente una educazione alla gioia. Finché non siamo qui, forse ha ragione Nietzsche che dice io non crederò mai in un Dio che i fedeli non sappiano danzare. Io non sono un fan di Nietzsche, nella maniera più assoluta. Però in questa frase qui, lui era estremamente critico nei confronti del cristianesimo, forse ci racconta quello che manca forse al cristianesimo in questa fase storia, cioè ritornare a essere veramente una teoria sulla realtà della vita, ma nel contempo sulla potenzialità di gioia che sta in questa realtà. Ecco, occasione in questo centenario per riscoprire allora bene la figura di Don Milani che a volte appunto non è ben conosciuta. Grazie allora Don Andrea per essere stati con noi. Grazie a voi per questa opportunità. Ringrazio Studio X che ha curato i servizi di questa sera e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi per la prossima puntata.